Con la vittoria per 11-7 contro la Cina, portata a casa la scorsa notte, il Sette Rosa della palanuoto italiana, della quale fanno parte anche le imperiesi Giulia Emolo e Giulia Gorlero, ha raggiunto la semifinale delle Olimpiadi di Rio, grazie anche a due gol della Emolo. Era dalle Olimpiadi di Atene 2004, quindi da 12 anni, che il Sette Rosa non raggiungeva questa tappa. La prossima sfida delle ragazze della palanuoto italiana sarà domani sera contro la Russia che ha sconfitto la Spagna. La partita contro la Cina è stata, come si suol dire, senza storia, mentre quella con la Russia per le ragazze di mister Fabio Conti si annuncia come una sfida decisamente più impegnativa. Da ricordare anche la presenza nel Sette Rosa di Francesca Pomeri, che pur essendo di Ancona aveva militato nella Mediterranea Imperia.